Lo scorso dicembre avevamo dato notizia, qui su media INAF TV, della prima luce di espresso, lo spettrografo di ultimissima generazione progettato e costruito, come si può intuire dallo stesso acronimo, da un consorzio in gran parte italiano, del quale fanno parte ricercatori e tecnologi dell'INAF di Trieste e dell'INAF di Brera. Ebbene, non sono passati nemmeno due mesi ed ecco che la notte tra il 3 e il 4 febbraio, la luce raccolta dai quattro telescopi da 8.2 metri ciascuno del VLT dell'ESO a Paranal è stata combinata con successo nello strumento creato appositamente per questo scopo, rendendo di fatto il Very Large Telescope il più grande telescopio ottico al mondo. La superficie di raccolta della luce è quella di un singolo strumento con lo specchio principale da 16 metri di diametro, quanto di meglio dunque abbiano gli astronomi oggi a disposizione non solo per cercare esopianeti simili alla Terra, ma anche per indagare misteri ancora irrisolti sulle costanti fisiche fondamentali dell'Universo. Grazie per la visione! Grazie!